ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vado a realizzare una cassettina di legno come quella che vedete nelle immagini è molto semplice da realizzarla e utilizzerò i legnetti accendifuoco per creare queste cassettine di legno che io ho riempito con dei fiori per abbellire casa ma ovviamente le possibilità sono infinite dunque per realizzare questa cassettina ho preso quattro legnetti di una dimensione di circa 15 centimetri e due legnetti di una dimensione di 11 centimetri vado a mettere i legnetti più lunghi in posizione orizzontale mentre i legnetti più piccoli in verticale questo farà in modo che incollando li stiano tutti attaccati assieme e li posiziona appunto in questo modo qui in modo da prendere la misura esatta insomma del legnetto più corto quindi con la colla a caldo vado a versare delle belle gocciolone sulle sui legnetti più lunghi ci appoggio sopra legnetto corto e questo sarà un lato della mia cassettina di legno e quindi ne vado a realizzare quattro uguali in tutto per la base invece vado ad utilizzare solo legnetti lunghi e quindi esattamente come prima vado ad a posizionare due legnetti lunghi in verticale e gli altri cinque in orizzontale sempre prendendo la misura appunto della lunghezza e poi di nuovo vado a versare delle belle gocciolone ad incollarci sopra il legnetto lungo rifaccio lo stesso operazione anche dall'altro lato e a questo punto anche la base della mia cassetta di legno è pronta a questo punto ho una base di cinque legnetti quindi un po più grande rispetto agli altri e poi quattro lati che invece sono formati da quattro legnetti quindi un po più piccoli li posiziono uno per lato con i legnetti verso l'interno tranne quello centrale che sta verso l'esterno a questo punto vado a versare la colla sull'ultimo legnetto del lato della cassettina e lo vado ad appiccicare alla base e faccio questa operazione sia con questo lato che con quello di fronte quindi di nuovo verso la colla e lo vado ad incollare sulla parte interna diciamo del cestino mentre quei due lati che mi restano intanto controllo che si posizionino bene dopodiché vado a versare la colla invece sui lati sui due lati esterni e poi li vado ad incollare sui lati che avevo precedentemente incollato e la stessa cosa vado a fare con l'altro lato questo punto la cassettina è pronta potete riempirla come volete potete infilarci dentro dei contenitori per i pennarelli per i colori dei vostri prodotti di bellezza io per questa volta ho deciso di realizzarla per fare un centro tavola e quindi inserisco all'interno una spugna e poi incomincio a posizionare tutti i fiorellini in questo caso sto utilizzando quelli finti ma ovviamente se avete quelli freschi sarà un risultato molto migliore e niente con questo è tutto io spero che l'idea vi sia piaciuta lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video o per sostenermi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao